Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo video di gioca con me giochi per bambini oggi voglio mostrarvi una lampada davvero speciale magari le avrete sicuramente viste quelle lampade un pochino stile vulcano ma quella di oggi che voglio presentarvi ha queste due bellissime medusette al suo interno per cui o almeno per quanto mi riguarda è davvero nuova io non l'avevo ancora vista e come potete vedere ha anche delle super lucine vediamo un po' chi la può utilizzare sono i bambini sopra gli 8 anni per cui adesso non ci rimane che aprirla per vedere un po' com'è dal vivo per cui andiamo ad aprire la scatola da sopra ecco qui allora abbiamo il contenitore principale come potete vedere e nella parte nera ci dovrà essere il bottone per accendere le luci eccole qui sono di tre colori come potete vedere blu, rosso e verde e da qui se togliamo il tappo dovremo andare ad inserire punto primo l'acqua e dopo di che le nostre due meduse eccole qua che sono una gialla e una rosa che andremo ad inserire dopo aver raggiunto l'acqua per cui vado a prendere subito l'acqua e vediamo un po' come assemblare il tutto ecco qui ora che abbiamo messo l'acqua all'interno della nostra lampada siamo pronti per inserire le nostre piccole due meduse che ovviamente non sono meduse nero, non sono meduse vere ma semplicemente fatte di silicone vediamo la prima e vedete un po' sembra quasi danzare dentro l'acqua vedete si capovolge, si sembra quasi camminare, sembra quasi essere viva adesso inseriamo anche la seconda ecco qui e come potete vedere entrambe continuano a muoversi e devo dire che mi piacciono anche molto era la prima volta che vedevo una cosa del genere perché solitamente le vedevo con le bolle d'acqua al suo interno dopodiché non dimenticatevi di chiudere il tappino e andiamo ad inserire l'ultima parte della nostra super lampada ovviamente con la luce spenta farà sicuramente tutto un altro effetto ma anche così mi piace moltissimo poi le luci come avete visto sono molto forti per cui sarà una lampada vera a tutti gli effetti ovviamente spero tantissimo che questo video di presentazione vi sia piaciuto e se vi è piaciuto regalateci un mi piace non dimenticatevi di andare a vedere gli altri video ma soprattutto abbonatevi al nostro canale per rimanere sempre sintonizzati con noi e ci vediamo sempre qui ciao